Ascolteremo ora una preghiera musicale del 1958, una preghiera scritta in poche parole da un sopravvissuto per commemorare la perdita di un amico di qualche anno prima, nel 1951. Si ritrovavano in una baita e un giorno trovarono questo amico riverso sulla neve. La parola sopravvissuto mi ha colpito leggendo questo brano e ci piace pensare che Giorgia Diral, unica sopravvissuta alla tremenda tragedia, voglia dedicare questo brano ai suoi amici, signori, signore delle cine. La parola sopravvissuta alla storia La parola sopravvissuta alla storia La parola sopravvissuta alla storia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.